è una rabbia legittima quella del sindaco di pescara carlo masci la macchia sulla bandiera blu appena conquistata seppure minuscola seppure temporanea sarebbe fonte di amarezza soprattutto se a causarla fosse stata l'incuria o peggio ancora la mancanza di scrupoli di chi prende il mare come una discarica ora però al di là dell'accaduto lo scarico anomalo nelle condotte fognarie che affluiscono al depuratore e al di là dei conseguenti divieti di balneazione da via galilei e 100 metri a sud del porto turistico divieti solo temporanei occorrerà capire chi e perché abbia causato il danno i tecnici dell'arta hanno avviato l'attenta verifica del fenomeno potenzialmente inquinante e hanno appurato che si è trattato di uno sversamento di acido solforico in quantità industriale e tolitri e intenzionale perché avvenuto attraverso uno dei tombini lungo la linea che va da san giovanni a spoltore a pescara fortunatamente il fiume e la lontananza del depuratore hanno fatto sì che la sostanza si disperdesse prima ancora di arrivare al mare le seconde analisi dell'arta hanno evidenziato che non ci sono problemi e pertanto il ladivieto di balneazione è stato revocato. I parametri ampiamente rientrati per l'inquinamento del mare di pescara sono arrivate le analisi tempestivamente fatte dall'arta e non ci sono superamento dei limiti e il fatto delittuoso dello sversamento non ha prodotto fortunatamente effetti negativi per la balneazione e la solubrità del mare di pescara.